La Procura della Repubblica di Ravenna chiederà la conferma del carcere per Mai Laconti, l'ex vigilessa arrestata per l'omicidio del compagno Leonardo Politi. Lo ha confermato in una conferenza stampa mercoledì 14 agosto il procuratore Alessandro Mancini tratteggiando per Laconti un profilo incompatibile con la vita al di fuori del carcere vista la pericolosità attribuita alla donna. Oltre alle varie vicissitudini diffuse nella giornata di ieri, sembra anche che la donna in passato abbia gestito una struttura per migranti, minacciando di lasciare però i rifugiati sulla strada in assenza dei pagamenti. Secondo invece le indagini condotte dai RIS, Laconti avrebbe pulito il coltello con il quale ha inferto il colpo mortale dopo l'aggressione arrivata al culmine di una serata trascorsa a litigare. Litigie frequenti all'interno della coppia, anche animati, ma niente che facesse presagire quanto è successo. Prima della scorsa notte infatti non era mai stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, neanche dai residenti, vicino all'attività commerciale. La litigiosità che si è manifestata proprio oltre che in precedenti occasioni nella sera stessa dell'episodio dell'omicidio, ben descritta dai testimoni presenti nel ristorante dove i due avevano fatto ingresso e dove sono trattenuti e che poi è spociata in questo atto di violenza che da parte dei testimoni sentiti non era prevedibile nonostante appunto questo rapporto connotato da una frequente di litigiosità. C'è anche un atto che lascia da pensare la donna ha pulito il coltello dopo aver ferito mortalmente il compagno. Questo è stato accertato a seguito delle immediate indagini svolte, cioè l'arma presumibile l'arma del delitto, questo coltello è stato trovato nella cucina del chiosco dove i due esercitavano un'attività di piedineria, chiamiamolo così, lavato e quindi questo è un dato che ha un suo significato. Confermo un po' anche le notizie uscite sulla stampa in questi giorni sui precedenti di questa donna. Dunque, l'unico precedente che ci risulti è una guida in stato d'ebrezza, inteso come sentenza passata in giudicato. Poi la donna era indagata nell'ambito di alcuni procedimenti, come è già stato per altro riferito, per stalking ai danni della moglie della vittima e per resistenza pubblico ufficiale. Quindi è una persona che manifesta una personalità di un certo tipo, incline ad atti di violenza. Naturalmente quello più grave è commesso ieri a Lido Adriano.